Ciao da Alessandro di 4W d'Italia, oggi andiamo a vedere una bellissima Jeep, è un CJ7 del 1978 Golden Eagle originale, in fase di restauro siamo probabilmente neanche a metà, per il momento siamo intervenuti sul motore rifacendolo completamente e questo è un motore 8 cilindri, per chi conosce questo modello di Jeep è il classico 3.0.4, la carrozzeria è stata completamente scoccata, la carrozzeria è rifatta da zero, ci sono alcune imperfezioni che dobbiamo ancora rivedere, però l'abbiamo sostanzialmente impostata, abbiamo cercato di cambiare meno pezzi possibili per cercare di ottenere un risultato il più possibile fedele all'originale, dovremmo cambiare tante altre cose, sicuramente cerchi e gomme, le gomme sono un po' troppo d'epoca e piano piano la stiamo riassemblando, per quanto riguarda per esempio gli interni, sono gli interni Levis originali e sostanzialmente li abbiamo esclusivamente puliti, ed è una cosa molto rara perché una conservazione del genere non è così comune, quindi riusciremo alla fine del restauro a riportarla a quelli che erano i fastidi una volta, senza stravolgerla, senza utilizzare troppi pezzi nuovi, aftermarket, cioè ripristinando sostanzialmente le caratteristiche originali. 4W d'Italia è un'azienda sul mercato dal 2011 e si occupa esclusivamente di Jeep e già da subito abbiamo iniziato a restaurarle ed è una delle attività che anche per noi dà più soddisfazione, pertanto se è una Jeep come questa, simile a questa o comunque una Jeep d'epoca che ha bisogno di cure, la nostra officina di Viale Europa 75 a Cusago è a tua disposizione e saremo fiere ed orgogliosi di averla in carico per tutte le riparazioni del caso. 75% Ueldì azale 70% 80% 80% Grazie a tutti.